Mister Antonino Asta, al termine di Feralpi Salofano 0-0, l'avevamo definito una partita difficile, così è stata una squadra magari di bassa classifica, però viene qua, si chiude ed è difficile trovare lo spazio per poi andare a concretizzare quelle che poi sono state le azioni che la Feralpi Salofano ha creato. Sì, ma ti dico, paradossalmente loro anche cambiando modulo sono venuti a giocarsela qui e ci hanno creato parecchie occasioni, quindi a volte noi dimentichiamo che ci sono gli avversari, hanno fatto molto bene e ci hanno messo in difficoltà, Noi quelle volte, soprattutto nel primo tempo che potevamo e dovevamo ripartire, lì dovevamo fare male, però oggi l'ultimo passaggio, la scelta della giocata non era come le altre volte, però c'è un avversario, un avversario che ha fatto non bene, benissimo e quindi alle volte le perdi queste gare, quindi portare avanti, muoverla classifica, un punticino assolutamente, qui non c'è una squadra ultima, penultima, c'è un girone bellissimo, difficilissimo e ad ogni gara può succedere di tutto, quindi contento, Con una prestazione così così riusciamo a muovere la classifica, andiamo avanti. C'è adesso un'altra gara molto stimolante, quella di San Benedetto, sabato prossimo, magari qualche tifoso si immagina qualcosa come Parma, bisogna però stare sempre molto calmi, affrontare partita per partita con il giusto piglio, con la giusta concentrazione. Ma guarda, a me piacerebbe pensare, tra virgolette, che oggi era la partita importante, che col Forlì era la partita importante, perché? Perché magari sono in quella classifica e uno pensa chissà che cosa, no, sono squadre vere, squadre ben organizzate, non ci deve, tranne in inganno, magari l'alta classifica e allora le altre squadre, no, questo è un campionato così, quindi ad ogni gara, oggi era la partita difficilissima, così è stata, non l'abbiamo persa perché loro al primo tempo hanno avuto buone occasioni per andare in vantaggio e quindi quando non puoi vincerla è meglio non perdela perché questa squadra, cioè la mia, a volte, insomma, lascia un po' troppo spazio, un po' troppe situazioni agli avversari e quindi portiamo a casa questo pari, muoviamo la classifica, nota positiva, non abbiamo preso gol e andiamo avanti.